Musica Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. Noi ci occupiamo di tutto ciò che accade in Sicilia con uno sguardo che cerca di comprendere quali sono le tendenze della nostra società. Oggi parliamo di scuole, ne parliamo con la dottoressa Enza Muratore, ora si dice dirigente scolastico. Lei ha in carico l'Istituto Alessandro Volta di Palermo, che è un liceo superiore, io ho un linguaggio gringi direbbero i suoi ragazzi, e poi anche la regenza di una scuola comprensiva a Campo Felice di Rocella. Noi abbiamo invitato oggi la dottoressa Muratore perché è scoppiata nuovamente la rissa tra scuola e famiglia, cioè questi due elementi di socializzazione primaria per i nostri ragazzi non riescono mai a combaciarsi. I genitori vogliono alcune cose, le scuole alcune cose le offrono e altre no, e alla fine in mezzo a farne le spese ci vanno di mezzo i docenti, che da sempre vengono additati come un disastro collettivo da parte delle famiglie, sicuramente al 99% dei casi a torto, perché poi apriamo una piccola parentesi sul concetto di docenza e di come il concetto di deprivazione relativa abbia sminuito il ruolo dei docenti della nostra società. Io però, dottoressa, prima di iniziare chiedo alla regia di mandare in onda un brevissimo video che rappresenta, come dire, il motivo per cui abbiamo organizzato questa puntata, è lo sfogo di una mamma, la signora Emma Guidetti se non sbaglio, che si è scagliata contro i compiti assegnata ai propri bambini. Ecco, prego alla regia di mandare in onda questo breve contributo. Io voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si sveglia alle sei e mezzo del mattino e si ritrova il pomeriggio con tre, quattro compiti da dover fare senza poter fare sport, senza poter fare un cazzo di niente. Voi cinque, sei ore, che cazzo me ne fate a me che avete venti alunni? Ve la dovete vedere voi. Collaborazione, scuola, famiglia. E questa è la collaborazione che fate voi alle famiglie. Questa è. Fate schifo. Ecco, come dire, io sono molto imbarazzato nel sentire questo tipo di sfoghi. Non ne faccio una questione, come dire, di linguaggio sguaiato. Qua, secondo me, è inutile tentare di recuperare il personaggio, ma ci troviamo di fronte a Angela Mondello II Relode. Tant'è vero che la signora Guidetti è diventata una star del talk show nazionale. Dirigente, dottoressa, ma come commentare una mamma che si scaglia così nei confronti, con parole così volgari, nei confronti della scuola e dei docenti? Quindi, oggettivamente, quando dice ai docenti, si riferisce ai docenti e ai suoi ragazzi, fate schifo, c'è un'offesa personale. Allora, intanto, diciamo che non commenterei moltissimo la signora, perché il video è abbastanza, come dire, è anche troppo eloquente. Io ho dato un calcione al tavolino, si è sentito un rumore, le chiedo scusa, prego, no, diciamo che la visione di questo video un po' mi dispiace, no, un po', mi dispiace, mi ferisce come cittadina, come donna delle istituzioni, come donna di scuola, per diversi profili. Però non dedicherò poi molto tempo alla signora, perché credo che già sia stata posta all'attenzione moltissimo. La signora, quindi, mediaticamente, ha avuto un ritorno, evidentemente, abbastanza nutrito, se è vero o com'è vero, che è stata invitata in più trasmissioni o comunque è stata intercettata a livello mediatico. Questo video, ad una visione un po' più approfondita, per i addetti ai lavori, suscita diverse domande, perché fa specie un genitore che, a fronte di un figlio, che piange, che evidentemente manifesta un disagio forte, ritiene o sceglie di utilizzare un canale, evidentemente in maniera distorta, per manifestare, non so però, quale effettivamente tipo di pensiero, perché certamente le risposte che cercava non le può trovare su TikTok, su Facebook, su Instagram. Se il problema era l'eccessivo carico di compiti... Però mi perdoni, dottoressa, io questo sfogo proprio non lo capisco, perché alla fine se il bambino non avesse fatto i compiti, cosa sarebbe potuto succedere? Non sarebbe successo nulla di grave, addirittura non sarebbe successo nulla che non meritasse di essere, semmai, portata all'attenzione degli educatori, quindi degli insegnanti, per eventuali rimodulazioni. Il problema del carico dei compiti in realtà è un falso problema, perché tutto ciò che viene mandato e affidato come consegna a casa ha in realtà il significato di esercitazioni e verifiche degli apprendimenti che si inseriscono dentro percorsi. Però in questo è un po' la scuola la responsabilità di non spiegarlo correttamente alle famiglie, perché io vivo da papà pure, come diceva, una bambina di 7 anni, per fortuna è molto brava e anzi si lamenta se ha pochi compiti. Però la bambina vive i compiti come uno strumento necessario, attraverso il quale poi viene valutata. Ma il compito, l'esercitazione è necessario, perché attraverso l'esercitazione, attraverso la verifica e la riflessione sugli apprendimenti, anche nelle forme di quelli che tradizionalmente vengono chiamate compiti, si inseriscono, ripeto, in percorsi che però sono funzionali al raggiungimento di obiettivi, che si traducono in competenze, in abilità, in conoscenze, in saperi. Cioè il compito, la lezione frontale è soltanto una modalità, una metodologia che viene posta in essere all'interno di percorsi che però sono articolati, che sono pensati, sono studiati dagli insegnanti. Il compito in sé per sé, avulso da una visione che è proiettata verso il raggiungimento di obiettivi e competenze, di traguardi, non ha senso. Non è vero che questo la scuola... Ah, quindi allora l'errore... Mi perdoni, l'errore che fa... Non è vero che la scuola... La scuola non è vero che non sia in questo trasparente. In questo la correggo perché... Ma io non ho detto che non è trasparente, è che probabilmente non si fa comprendere bene che è un concetto diverso. No, il problema è che... Non viene spiegato bene questo aspetto. Il problema è che probabilmente si interpreta il compito come un esercizio meccanico. Il compito non è un esercizio meccanico, non è fine a se stesso, non è un barrare, mettere una X oppure compilare delle caselle, annerire dei puntini. Il compito ha un obiettivo, risponde ad una logica ben precisa che si inserisce in un percorso che impegna un arco temporale più lungo di quello che è relativo all'esecuzione del singolo compito. Cioè, noi dobbiamo pensare che la scuola lavora per archi temporali più lunghi che in realtà seguono la crescita e lo sviluppo del singolo alunno. Non si può pensare che il problema, un singolo problema, resti un singolo problema, ma quel singolo problema, quella singola frase, quella poesia, quella lettura, quell'attività extracurriculare, come può essere la visione di un film, all'ascolto di un brano di musica, un esercizio di ginnastica, si inseriscono in un progetto più lungo, che in realtà è tarato, modulato, sia sulle abilità di base, sulle conoscenze di base, sulle competenze di base, sul background del singolo alunno, che rispetto poi al traguardo e alle competenze che un alunno da un punto di vista cronologico è per l'anno, diciamo, di corso in cui è inserito, dovrebbe avere. Quindi pensare che il compito sia un compito sic da simpliciter è errato. Però ora adesso lei mi deve sintetizzare. Io la devo fermare, perché lei è un fiume in piena, altrimenti poi non ci seguono più, perché lei ha spiegato in maniera assolutamente precisa qual è il suo punto di vista, qual è la corretta, come dire, interpretazione che bisogna dare ai compiti e come devono essere inseriti in un contesto scolato. Di vita, in un contesto di vita. Allora, però ci sono dei suoi colleghi dirigenti che qualche anno fa dissero addirittura che i compiti andrebbero vietati per legge e fece riferimento alla Convenzione io ho preso degli appunti perché non sono un esperto in materia alla Convenzione dei diritti all'infanzia e dell'adolescenza citando l'articolo 31, la Convenzione Recipita all'Italia con la legge 176 del 91 e all'articolo 31 recita che gli adolescenti, i bambini hanno diritto a una quota di riposo, di sport, di ricreazione, eccetera, eccetera, bla 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 ora, io credo che sia probabilmente quella del suo collega una forzatura, una provocazione per far capire che comunque un problema esiste e io però le chiedo, secondo me, questo sfogo della signora sui compiti non è forse una spia di allarme, di un malessere più diffuso di famiglie che in realtà non sono più in grado di gestire i propri figli e alla fine attaccano qual è l'interfaccia, come dire, principale perché secondo me, come correttamente ha detto lei una mamma che si rivolge a TikTok per sfogarsi secondo me non fa un buon servizio educativo perché io da figlio cosa vedo? vedo mia mamma che invece di andare a parlare con il dirigente della scuola con l'insegnante fa una sorta, come dire, la nobile arte di sputare in faccia all'italiana che ora è diventata la nobile arte di sputare in faccia via social allora io non conosco esattamente il testo dell'articolo però tutto quello che sinteticamente ha riferito diritto al riposo, diritto allo sport, diritto al gioco non risulta incompatibile con il diritto all'istruzione che è anch'esso un diritto di rango costituzionale e che quindi a livello istituzionale non possiamo che recepire ovviamente la scuola è il luogo privilegiato allora le rifaccio la domanda in maniera più perversa e un po' più cinica non è che forse sarebbe necessario che lo Stato sganciasse un po' più di soldi alle scuole per fare in modo che questa previsione dell'articolo 31 della legge 176 si verificasse appunto nelle scuole ma guardi le devo dire che mai come in questi anni sono arrivati i fondi alle scuole non è un problema di quanti soldi vengono o meglio non è soltanto un problema di quanti soldi arrivano nelle casse delle scuole perché i soldi anche attraverso i fondi europei arrivano e ne arrivano anche tanti si potrebbe domandare semmai come vengono spesi cioè qual è il modo migliore per rendere l'investimento funzionale al perseguimento di obiettivi che hanno rilevanza costituzionale agganciati ovviamente come quelli della convenzione al diritto all'istruzione ma anche al diritto al riposo al diritto allo sport, al diritto al gioco ma non penso che questi diritti non vengano garantiti anche attraverso le scuole grazie anche alle attività che le scuole possono essere quindi questi diritti li possiamo raggiungere attraverso la scuola ma le dico che vengono raggiunti attraverso le scuole cioè la scuola offre una gamma di attività sia in orario curriculare che extracurriculare così vasta, così ampia che probabilmente è veramente un falso problema quello di richiamare un diritto allo sport o al riposo quasi come un rimprovero alla scuola cioè la scuola per colpa dei compiti non fa fare sport al bambino ma non è affatto così perché semmai è anche il contrario attraverso la scuola portiamo in campo atleti consentiamo ad alunni che non avrebbero nemmeno magari le possibilità di accedere ai livelli agonistici li accompagniamo anche in questa direzione ricordiamoci che a scuola si fa sport a scuola si fa teatro a scuola si fa musica a scuola si fa moda a scuola si fanno i compiti a scuola si dialoga a scuola si fa tutto posso fare un po' di autopromozione a scuola all'istituto di Sant'Orta si fa anche il giornalismo si fa giornalismo si fa comunicazione si fa corretta comunicazione si insegna agli alunni e forse anche agli adulti cosa significa fare informazione fare comunicazione e quale può essere il vantaggio legato ad un uso consapevole della rete perché fare comunicazione come ha scelto di farla la signora non lo so se poi ha il rischio in sé dell'effetto boomerang perché rimane la signora scusate questo dico io lo apprezzo per cui certamente non è questo il caso però lanciare strali contro un'istituzione questa volta è la scuola domani sarà sarà il medico oppure il vigile urbano io non riesco mai a fermare è un fiume in piedi io vorrei dirle ma questa vicenda che è successa con i fatti debiti le debite proporzioni mi ricorda tanto l'atteggiamento che hanno molti parenti di pazienti quando vanno ad aggredire il pronto soccorso e a distruggerlo cioè io non vorrei che ci fosse in realtà una concatenazione comportamentale cioè si inizia attaccando la scuola e poi si cresce avendo avuto un esempio sbagliato e si vanno ad attaccare le istituzioni pubbliche perché comunque ricordiamoci che la scuola ce la paga lo Stato è un bene da salvare la scuola è un'istituzione pubblica la scuola è lo Stato la scuola è un pezzo dello Stato e quindi la scuola va rispettata anche perché la scuola soprattutto questa scuola cioè la scuola dell'autonomia è una scuola perennemente aperta al territorio perennemente aperta al dialogo al confronto che raccoglie le esigenze che spesso si sostituisce ad altre istituzioni non dimentichiamoci che la scuola ha tenuto ha contribuito a mantenere in piedi il sistema durante il periodo della pandemia mi chiedo che cosa sarebbe stato all'interno delle case se la scuola non ci fosse stata se non ci fosse stata la scuola a distanza cioè la scuola risponde quanto è stato complicato mettere in piedi quel sistema è stato complicato ma la scuola non si è è stata molto complicata perché ovviamente ci ha colto di sorpresa la novità però ci ha consentito di interrogarci proprio perché la scuola diversamente da troppi altri è in perenne confronto dialettico ha sempre un occhio attento alla società perché ovviamente ha l'interesse di accompagnare nuove generazioni lungo processi di crescita che li rendano autonomi consapevoli cittadini militanti attivi però nel senso più bello nel senso più bello cioè del servizio che si può rendere non soltanto a se stessi e quindi allo sviluppo del proprio talento delle proprie competenze alla realizzazione dei propri sogni quando parla di talento e competenze ne parla in maniera più rilassata lo dice con proprio compassione certo perché sono estremamente convinta che sia il luogo privilegiato anche per lo svolgimento di quelli che la signora chiama compiti il compito ripeto è un'esercitazione necessaria diciamo che ha avuto una visione minimalista non ha capito che cosa sta facendo Sofia a scuola riduttiva innanzitutto va probabilmente ricondotta anche nel giusto confine il significato del soggetto deputata allo svolgimento del compito io ho ascoltato la signora con molto interesse la signora dice noi abbiamo quattro compiti ecco questo noi se da un lato mi può confortare perché evidentemente abbiamo di fronte un genitore che comunque si prende carico del momento dello svolgimento del compito a casa dall'altro lato però non vorrei che questo sconfinasse nella percezione della individualizzazione del compito non è il genitore non è il genitore che deve sostituirsi al bambino a fare il compito non devono essere i genitori a fare i compiti ai bambini li devono aiutare ma non vanno aiutati perché è compito dei genitori istruire anche i figli e per questo deve necessariamente starci la collaborazione quella che la signora chiama collaborazione ma che è una cosa ancora più bella perché è la partecipazione dei genitori al mondo della scuola alla vita della scuola come diceva Giorgio Gabber libertà e partecipazione assolutamente libertà e partecipazione questa scuola lo conferma sempre di più la scuola non esiste se non esistono i genitori i genitori non possono pensare di fare i genitori senza il conforto l'accompagnamento il consiglio della scuola abbiamo capito in maniera chiarissima il suo punto di vista però parliamo un pochettino delle scuole delle quali lei ha la responsabilità sono successi episodi di genitori sono alimentati cose un po' scomposte io l'ho frequentata spesso in questi anni proprio per questo progetto che abbiamo impreparati allora guardi e poi è una scuola molto tranquilla ragazzi molto sereni e molto svegli i ragazzi sono sereni se arriva loro il motivo per il quale vengono poste le regole il motivo per il quale vengono date le consegne il motivo per il quale vengono richiamati il motivo per il quale si cerca e si garantisce il confronto continuo sia all'interno delle classiche che con la componente genitoriale ecco tutte le volte che c'è un disagio è bene che il disagio venga manifestato nelle forme ovviamente che la civile convivenza e le regole e attraverso anche i canali deputati e soprattutto avvalendosi di quegli organismi di partecipazione che sono assolutamente garanzia della democraticità che all'interno delle scuole viene garantita mi consente una battuta i rappresentanti di classe per esempio più consigli di classe più rappresentanti di classe meno chat delle mamme su whatsapp assolutamente meno chat perché poi non si capisce più niente perché la messaggistica istantanea poi insegnano quelli che diciamo gli addetti ai lavori della comunicazione la messaggistica istantanea rischia di far perdere il senso dei messaggi di ciò che si vuol dire ma soprattutto più partecipazione nei momenti in cui la scuola lo richiede si fa fatica a trovare ogni anno i rappresentanti di classe abbiamo pochi genitori che con coraggio devo dire con abnegazione con passione con estrema cura condividono il percorso e la responsabilità della scuola abbiamo una bella pacchettata ai genitori alle mamme partecipiamo di più quindi i genitori meno leoni in chat le elezioni dei rappresentanti di classe non li disertiamo non li disertiamo perché la signora tranquillamente ora è la signora ma chiunque genitore abbia un problema lo può manifestare anche attraverso il raccordo con l'organismo diciamo medio che è rappresentato dal rappresentante di classe esistono poi le figure per post esistono i coordinatori di classe c'è lo staff della dirigenza c'è la dirigenza è una scuola che ci mette perennamente la faccia e che non si merita di essere additata anche perché non educa a questo quindi non può fallire non possiamo fare passare questo messaggio di una scuola distratta di una scuola disattenta perché la scuola ripeto si sostituisce spesso ad altre istituzioni ma lo fa con convinzione proprio perché è altissimo il senso di responsabilità e questo anima ogni insegnante anche quando lascia i famosi compiti dottoressa allora come ci tengo a sottolinearlo è stata brevissima l'ha fatto con tanta passione gli insegnanti studiano prima di lasciare i compiti ormai sta suonando la campanella il tempo a disposizione probabilmente era poco per parlare di un tema importante come la scuola è un tempo privilegiato vi ringrazio per aver dato una visione precisa puntuale dettagliata di come si ci debba comportare nel rapporto tra scuola e famiglia allora io ringrazio la dottoressa Muratore grazie a voi per averci accolto e per averci consentito di parlare di scuola e della scuola se riusciamo a fare un faccia a faccia con la signora Guidetti la inviterò nuovamente sarà un piacere incontrare la signora contori sicuramente che saranno molto più non ho dubbi la signora si è scusata quindi ha già bel compreso non commettiamo noi l'errore che ha fatto no no assolutamente la signora ha la mia comprensione di nuovo grazie a lei grazie dottoressa un caro saluto ai nostri web spettatori telespettatori e online spettatori arriverci alla prossima puntata del Talk Sicilia grazie a tutti grazie a tutti